Allora Carignano c'è una problematica legata ai trasporti che volete evidenziare? Sì, è successo questo, siamo stati avvisati dagli abitanti di Carignano che proprio ieri hanno saputo che la linea numero 4 che raggiunge Carignano da lunedì prossimo, quindi da lunedì primo aprile, ridurrà le corse su Carignano soltanto a 4 corse giornaliere. Carignano è una frazione che ha sofferto nel corso di questi ultimi anni di un abbandono progressivo da parte dell'amministrazione e questo ulteriore fatto li rende sempre più isolati, sempre più soli, pensiamo ai disagi che subiranno le persone anziane e magari anche i ragazzi che non hanno mezzi per raggiungere il centro e quindi si troveranno in difficoltà. Soprattutto la gente è indispettita per il fatto di non essere stata avvisata in tempo e di non aver ricevuto una motivazione e di non essere stata coinvolta nella decisione. Noi adesso siamo assolutamente vicini a queste persone e sappiamo che da questa sera verrà fatto un inizio di raccolta firme che verrà poi presentata al sindaco. Non possiamo continuare a pensare che questi quartieri periferici debbano essere abbandonati a loro stessi. Mentre ascoltiamo delle enunciazioni enfatiche su quello che avviene nel centro di Fano ci accorgiamo invece che nei quartieri periferici succede esattamente il contrario. Ci si dimentica che anche queste persone non sono figliastre di un'amministrazione comunale ma hanno pari diritti di tutti quanti.